Non c'è da lavorare, ci sono regolamenti in postietro, ci sono tante cose in postietro, sono queste. Consigliere Francesca Bruno, ormai la decisione presa ha creato anche un po' di scompiglio all'interno della Sise Civica. Da oggi lei, in rappresentanza di Casa Pound, passa dalla maggioranza all'opposizione. Beh sì, è già stata chiarita la mia posizione un po' di tempo fa con un comunicato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'assegnazione di lavori socialmente utili agli immigrati. Una cosa inaccettabile in un'amministrazione di centro-destra. Lei adesso ancora non ha chiarito le sue intenzioni, la sua collocazione. Al momento si colloca nel gruppo indipendente? Sì, sì, al momento sono nel gruppo misto, sono indipendente. Più in là vedremo se andrà bene questa posizione o chiarire ulteriormente. Ha avuto modo di avere un chiarimento con i vertici dell'amministrazione civica in questi giorni? Insomma, cosa è successo? È stato fatto un tentativo per ricucire questo strappo oppure non c'è stata alcuna interlocuzione con i vertici dell'amministrazione civica? Come si è visto prima dalle immagini precedenti, di pochi minuti fa, con questa amministrazione un dibattito non è possibile. Come si è visto anche con l'assessore Eugenio che tira numeri all'otto. È un'amministrazione con cui non si può ricucire. Non è un'amministrazione all'altezza di Casa Pound. Ecco, Casa Pound invece cosa si propone di fare in questa nuova fase? Ma quello che abbiamo fatto anche prima di entrare in consiglio e prima di sederci su una poltrona, stare al fianco degli sernini come ogni giorno, come ogni mercoledì nelle nostre sedi, facciamo distribuzione di alimenti, vestiario, non cambia nulla. Non cambia nulla. Invece per quanto riguarda la quarta commissione? La quarta commissione c'è urgenza per la convocazione perché, come ho detto prima, l'assessore forse non è aggiornato dal suo consigliere ma ci sono molte proposte in sospeso, c'è da parlare di molte cose, i regolamenti sono rimasti così e non mi spiego il perché questa commissione è tardi a essere convocata. Lei ha chiesto anche le dimissioni del presidente della quarta commissione? Ebbè, ovvio. Un presidente del genere non può comandare, non può dirigere una commissione così importante per Isernia. Gianni Fantozzi, allora pausa di riflessione per la sfiducia a Lombardozzi. C'era in calendario la presentazione della mozione ma è stato detto che per il momento tutto viene congelato. Chi è intervenuto? Michele Orio oppure un ripensamento generale? No, Michele Orio è fuori dalla discussione così come è fuori dalla discussione anche il sindaco perché sono questioni che riguardano squisitamente di consiglio comunale quindi siamo noi consiglieri comunali che dobbiamo discutere e cercare la via più agevole per non creare traumi, per non creare disfunzioni all'interno della maggioranza stessa del consiglio comunale. Il fatto è ed esiste. Stiamo valutando perché le cose fatte in fretta possono non andare a buon fine, possono creare problemi. Quindi una pausa di riflessione di pochi giorni per fare in modo di chiarirci bene le idee e per comunque verrà affrontato sicuramente nel prossimo consiglio comunale ma se non nel prossimo è l'altro consiglio comunale. E per le dimissioni di Azzolini dal capogruppo di Insieme per il Molise che succede? Il tutto è subordinato a tutta questa iniziativa perché quando è tutto subordinato all'iniziativa è tutto collegato. Un po' in difficoltà? No, non sono in difficoltà assolutamente. Considerate che il consiglio comunale di Sernia, quasi il 99% è modificato. Tutta gente nuova, gente poco esperta ma con questa non dico che non è valida, però poco esperta, dei problemi amministrativi. Quindi abbiamo da lavorare un poco di più per far capire i meccanismi ai quali si deve accedere per poter risolvere alcuni problemi. Il problema c'è ed esiste. Vedremo come risolverlo. Lo risolveremo nel miglior modo possibile per non creare danni ovviamente all'interesse della maggioranza e non creare danni alla conduzione di questa consigliatura. E' chiaro che il centrodestra e i Sernia, diciamo così, è il fortino del centrodestra e proprio i Sernia, una spaccatura dalla maggioranza potrebbe creare problemi anche per le prossime elezioni, i prossimi appuntamenti elettorali. Fantozzi? Sicuramente, ma non intendiamoci. La questione presidente del Consiglio non va a toccare la situazione della maggioranza al Consiglio Comunale di Sernia. La situazione del Presidente del Consiglio è una cosa a sé stante. Vogliamo che ci sono delle cose che si sono verificate, degli accadimenti che hanno portato ad una pausa di riflessione da parte dei consiglieri comunali sull'atteggiamento da avere, dall'atteggiamento assunto dal Presidente del Consiglio ma non tanto per il voto negativo nell'ultimo Consiglio Comunale ma in quanto alle esternazioni che come Presidente del Consiglio avrebbe dovuto evitare di fare sulla stampa. Quali sono questi interventi esterni che hanno congelato tutto? No, non ci sono stati realmente esterni. Non ci sono stati assolutamente, soltanto che c'è stata mancanza e assenza di alcuni consiglieri comunali della maggioranza che le puoi vedere anche oggi in Consiglio Comunale e non sono strumentali, le assenze sono dovute a lutti oppure a problemi familiari molto importanti motivo per cui non possiamo interpretare il volere di consiglieri che sono assenti. Questo è l'unico motivo. Allora ci spiega che è successo con Spinosa e che succederà. Bene, dopo tanti anni io credo che è arrivato un momento importante per il Comune credo che sia una data storica sotto questo punto di vista dal punto di vista economico contabile del Comune. Questa rientra appunto negli obiettivi che l'amministrazione si è posta quella di risanare il bilancio comunale, di togliere tutti quei debiti che il Comune aveva da troppi anni e questo rappresentava veramente uno dei punti cruciali, cioè il cosiddetto lodo Spinosa che per il Comune di Serna è una palla al piede da troppi anni e rappresentava un debito del Comune perché debito vero e proprio perché il Comune purtroppo è stato già condannato al pagamento delle spese e di tutto quanto l'arbitrato che fu tenuto nel 2007 addirittura e siamo in un grado, nell'ultimo grado di giudizio, in Cassazione. Chiaramente mi sono, dopo essermi munito di tutti i pareri legali, ho avviato una trattativa e ho trovato la sensibilità dell'azienda che si è mostrata pronta ad accogliere, a valutare le nostre proposte. Loro ci hanno fatto una prima proposta, noi abbiamo risposto con delle controproposte stabilendo anche poi alla fine, dopo anche qualche tavolo, qualche trattativa che è durata qualche giorno abbiamo stabilito anche un importo finale che poi dovrà essere onnicomprensivo di tutto praticamente e che verrà corrisposto nell'arco di sei esercizi finanziari di sei anni perché proprio per salvaguardare gli equilibri di bilancio non eravamo in grado di pagare tutti insieme l'importo. e chiaramente figuriamoci cosa sarebbe accaduto a seguito della sentenza perché ci sarà una prossima udienza della Corte di Cassazione il 23 novembre prossimo il Comune subiva un'ennesima condanna e con una situazione sarebbe giunta questa condanna per un importo notevole intorno ai 5 milioni di euro tutta ricadente in un unico esercizio finanziario per il Comune sarebbe stato non dico il dissesto ma comunque andavamo in una fase di predissesto che faceva scattare tutta una serie di norme, di situazioni che non ci avrebbero permesso di amministrare serenamente il Comune chiaramente limitando l'azione finanziaria del Comune sarebbe stato veramente un grandissimo danno soprattutto in questo momento che stiamo cercando di risollevarci per cui credo che sia un momento importante c'era bisogno di prendersi delle responsabilità noi l'abbiamo fatto con slancio, con energia dopo ovviamente esserci muniti di tutti i pareri previsti dalla legge per cui adesso siamo in Consiglio Comunale e insomma attendiamo il passaggio finale Ecco, chiarendo che state mettendo una toppa ad un bel buco che mi hanno lasciato ma le responsabilità di questo buco alla fine verranno fuori passerete tutto alla Corte dei Conti bisognerà capire perché i cittadini di Senna devono tirare fuori 3 milioni che non stavano scritti da nessuna parte Beh certo, insomma è chiaro che ci sono tanti interrogativi che ci siamo posti noi come amministrazioni siamo arrivati non da molto e chiaramente trovandoci delle situazioni che sono maturate nel corso di alcuni anni di tanti anni, adesso ci domandiamo il perché di tante cose purtroppo entrare nel merito è troppo tardi ci sono già delle sentenze di condanna cioè quello che è avvenuto è avvenuto però qualche dubbio, qualche perplessità ci arriva perché è stata fatta questa opera, è stata prevista questa opera era veramente necessaria sono risposte che oggi se ad oggi ne possiamo fare benissimo o meno è chiaro che noi ce lo poniamo questo problema perché il comune ha rinunciato a una difesa molto più stringente, molto più penetrante perché nel lodo arbitrale il comune non è stato rappresentato adeguatamente quindi insomma ci sono tutta una serie di perplessità che chiaramente vengono fuori in questo momento fatto sta che l'azione era necessaria per evitare più gravi conseguenze e secondo il parere dei nostri legali non solo quello del comune ma anche avvocati che hanno difeso il comune in Corte di Cassazione le possibilità di soccompensa erano veramente molto elevate per cui era necessario questo passo comunque farlo per risolvere finalmente e definitivamente questa situazione Ecco ma poi trasmetterete tutta la Corte dei Conti? Ma certamente insomma io l'ho fatto scrivere anche nella proposta di deliberazione del Consiglio che tutti gli atti saranno trasmessi alla Corte dei Conti per le valutazioni del caso